Einova è un'azienda modenese specializzata in prodotti dedicati al mondo della ricarica, un'azienda giovane composta da designer e ingegneri, della quale abbiamo deciso di provare due prodotti innovativi. Il primo si chiama Mundus UV Pro, si tratta di una scatoletta bianca che permette di ricaricare senza fili i dispositivi che vi vengono appoggiati sopra, come smartphone o cuffie, ma la vera potenza è nello scompartimento interno, che è in grado di sterilizzare grazie a due livelli o due smartphone insieme oppure tanti altri oggetti come cuffietti, orologi, bracciali, anelli, mascherine, chiavi, il tutto in circa 8 minuti. Due laboratori indipendenti hanno certificato l'eliminazione del 99,99% dei batteri con una tecnologia basata su un mix di lunghezze d'onda che combina lampade LED UVC ad alta potenza con frequenze di emissioni studiate per massimizzare l'effetto germicida, una irradiazione che spiega innova e efficace anche nell'inattivare e inibire la replicazione di SARS-CoV-2. L'effetto igienizzante infine è amplificato da una superficie catalitica nebbiossido di titanio. Mundus UV Pro ha un prezzo di listino di 149 euro. L'altro prodotto che abbiamo testato è il Laptop Power Bank. Si tratta di un caricatore portatile da 63 Watt che offre la possibilità di ricaricare fino a 3 device contemporaneamente. La batteria da 20.000 mAh è in grado di caricare dalle 3 alle 4 volte un tablet e dalle 4 alle 6 volte uno smartphone, ma soprattutto è in grado di caricare buona parte della batteria di un laptop grazie alla presa USB-C. Funzione a nostro avviso molto interessante perché permette a chi trascorre molto tempo fuori casa di continuare a usare il PC all'aperto in assenza di una fonte di energia. Quando il power bank è completamente a secco impiega circa 4 ore per ricaricarsi. Il guscio è realizzato in tela idrorepellente e ospita un mini display che indica l'autonomia residua. Prezzo di listino 100 euro. Daniele Semeraro Sky TG24 Grazie a tutti. Grazie a tutti.